Missione di pace, in collaborazione con l'esercito italiano. Buongiorno, oggi abbiamo con noi il tenente colonnello Antonio Minutella, capo sezione pubblica in formazione del comando militare dell'esercito Abruzzo. Buona giornata a lei. Buongiorno. Allora, oggi parliamo del tour promozionale estivo che l'esercito fa per promuovere l'arruolamento. Allora, ci parli di questo. Il tour promozionale estivo non è altro che una serie di attività che il personale volontario infermio previstato di un anno svolge su tutte le maggiori località estive d'Italia, delle regioni in Italia. L'obiettivo principale di questo tour è la promozione della figura del volontario infermio previstato di un anno. Lo scopo che noi vogliamo ottenere è quello di dare maggiore diffusione di quelle che sono le offerte professionali proposte dall'esercito. Dove si può trovare un calendario completo delle attività? Allora, il calendario completo dell'attività è proposto sul sito dell'esercito, sul nostro sito www.esercito.dipesa.it oppure andare su un punto di ricerca e digitare tour promozionale estivo e usciranno, c'è il calendario completo di regione per regione e località per località dove i curiosi oppure gli interessati possono andare e contattare questi volontari infermio previstato che saranno in grado di rispondere a tutte le domande. Bene, ringraziamo il tenente colonnello Antonio Minutella, capo sezione pubblica e informazione del comando militare esercito Abruzzo, grazie e buona giornata. Buona giornata, grazie e buon lavoro a tutti. Missione di pace torna domenica prossima alla stessa ora.